Perché non è che siete cambiati come giocatori, però siete riusciti forse a fare una nuova migliore. Avete anche una buona tradizione di scuola di ragazzini che hanno crescido, quindi noi dobbiamo puntare su questo. Allora ci può bastare dire, l'abbiamo quest'anno, abbiamo avuto un campionato, andiamo in Serie D e poi ci prendiamo lì. Dobbiamo pensare di prepararci a crescere il territorio. Cosa ci vuole? La solidarietà. Poi ci vuole che questo campo sia possibilmente pronto perché se si volesse mai riuscire a costruire un futuro più orgoglioso si possa avere un campo che è idoneo per la semplice. Questo disegno qua è quello che ci dovrebbe permettere, adesso praticabile e breve per l'inizio del campionato vostro, ma ci deve essere un progetto che ci possa permettere di avere quelle uscite di sicurezza e quei posteggi per gli autori delle squadre che possano permettere di essere in regola per il campionato di Serie C. di alle persone, come tutta la quale, come tutta la stampa, a tutti i dirigenti per averci avuto il fatto, per averci avuto queste belle parole. Sono sicuro, conoscendoci da sempre, che quello che hai detto ti realizzerà perché, come hai detto tu, l'importante è avere degli obiettivi e tu sei abituato a perseguirli e raggiungerti. È stata un bellissima cosa e siamo molto contenti, siamo orgogliosi, i ragazzi so che ci tenevano molto e tutti perché vi faceva piacere essere qua presenti.